Ciao a tutti amici di Film & More, sono Davide Belardo di DarumaViu e oggi sono qui su questo canale, ospite di Gold Picture, per presentarvi il 4K del Settimo Sigillo. Grandissimo capolavoro di Bergman che arriva per la prima volta in 4K grazie alla linea 4K di Gold Picture. Come sempre per questa linea abbiamo una splendida slipcover con elementi in rilievo, devo dire di ottima fattura al tatto, nella parte posteriore ovviamente troviamo la trama e tutti i dettagli con cui possiamo scoprire anche che ci sono alcuni contenuti speciali nel Blu-ray che erano presenti anche nel Blu-ray precedentemente uscito, sempre Gold Picture, vi ricordo che i diritti del film sono di BIM e poi nella parte laterale troviamo il titolo del film anche qui con elementi in rilievo e anche dall'altra parte abbiamo il titolo del film. Una volta estratta la Marai dalla slipcover possiamo notare che la cover è la stessa, guardate che splendida morte in bianco e nero e poi nella parte posteriore ovviamente tutti i dettagli come per la slipcover. All'interno card da collezione limitata, mille copie, attenzione ragazzuali, disco Blu-ray del film, ottimo master anche per il Blu-ray, ci sono gli extra tra cui c'è l'extra sulla censura di questo film a Bergman. Bergman è stato uno degli autori probabilmente più censurati della storia del cinema, almeno in Italia. e poi abbiamo il Master 4K, devo dire ottimo Master 4K, tra l'altro voluto proprio dalla fondazione svedese che si occupa di proteggere i film di Bergman. Devo dire un'ottima edizione. Come dicevamo abbiamo anche una card da collezione, guardate quanto è bella. e ovviamente vi ricordo che è numerata e limitata a mille copie, quindi attenzione perché se vi interessa la card io vi consiglio di recuperarlo il prima possibile o comunque stare attenti perché dopo le prime mille copie non sarà più possibile avere una ristampa con la card. Che dire ragazzuali, questo è un film incredibile che vi metterà a confronto di una partita scacchi con la morte, vi consiglio di farlo vostro ma assolutamente vi consiglio di iscrivervi a questo canale, non solo per guardare questi unboxing in esclusiva ma perché nel canale di Film & More troverete tantissimi film gratuiti da vedere ogni settimana due film nuovi almeno caricati a settimana, quindi veramente è un'ottima occasione che vi regala Eagle Picture con il suo canale. Per inciso e per finire vi annuncio che Eagle Picture con Film & More ha aperto anche un canale di vendita DVD, Blu-ray e 4T, con tantissime esclusive e tantissime sorprese che usciranno nei prossimi mesi e quindi vi consiglio di andarci a dare un'occhiata. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti!